Sabato 24 e domenica 25 novembre, Palazzo Grassi ospita la quarta edizione del Grand Tour in collaborazione con Manifesta 12 Palermo. È un dialogo tra Palazzo Grassi e Manifesta aperto a altri musei e istituzioni culturali veneziani, italiani e anche internazionali. Sono due giornate aperte al pubblico ma anche agli educatori museali. Il tema principale del Grand Tour di quest'anno è mediazione culturale e pratica sociale. Tre giorni fa, abbiamo finito Manifesta 12 in Palermo. È un momento molto importante per rispondere a quello che abbiamo fatto in ultimi due anni e riflettere le pratiche educazione e mediasi pratiche che abbiamo avuto in Palermo. Il role di educazione e mediasi in Manifesta è abbastanza specifico. Abbiamo un anno di nomadico, tutti i due anni. Dobbiamo sviluppare il pubblico e la relazione con le persone dall'inizio. Quindi i programmi educazione e mediasi sono alcune strade o strategie per coinvolgere e coinvolgere le comunità e varie persone nel programma biannuale. L'obiettivo del nostro lavoro è anche quello di includere e coinvolgere la città nella produzione di senso della Biennale. Abbiamo deciso di portare qui a Venezia alcuni dei nostri progetti. Abbiamo usato un espediente che è stato quello del mercato delle idee. Abbiamo fatto anche un workshop in cui abbiamo provato insieme ai professionisti che hanno partecipato al Grand Tour di Palazzo Grassi a rispondere alla domanda che spazio di manovra hanno i pubblici che coinvolgiamo nei nostri progetti di comunità. Ci siamo quindi chiesti appunto in che modo questi i partecipanti riescono a rimodulare, ridare forma ai progetti e quindi quanto noi siamo disposti anche a cedere parte della progettualità. Questo workshop è stato inspirato dal mio interesse di rinascimento di rinascimento e cercano per un'illustrazione che è evitato la formazione di formazione, come la un'immagine di una planta. La printa natura era una tecnica che era usata per questo, perché non aveva un'artista in between. Si aveva la planta, mette color sull'interno e impronte direttamente. Il stato stato inspirato da un botanista Paolo Bocchone e il suo sforzo per le planti toxiche che possono essere usati per nuovi remedie. Il I Am Your Mediator è un'attività che abbiamo creato per il Manifesto XI e poi abbiamo aggiunto per il Manifesto XII e ora abbiamo portato il Palazzo Grassi e la Punta della Lugana. e insieme con i Mediatori di Venice avremmo due self-guidate tours in i due luoghi e rendere i visitori un'esperienza in una situazione artificiale come è iniziare solo da un punto di vista. e quindi abbiamo messo in questa situazione come si mette solo da un'artista o da quello che si vedete o da un'escrizione o da un'escrizione o da un'escrizione e poi creiamo un'intenere per la tutta del'escrizione. all'escrizione all'escrizione Grazie.